Eccomo, buongiorno, diamo inizio a questa webinar, che è la prima volta, a mia memoria, che viene fatto su questi bandi, bandi per le convenzionate, quindi biblioteche e archivi, questa mattina e musei successivamente, abbiamo voluto utilizzare questo strumento già in questa fase per spiegare il bando, le caratteristiche, i principali profili del bando, ma soffermarci, come vedremo, su alcuni aspetti che sono statisticamente e usualmente critici e che riguardano profili un po' più amministrativi, come le rendicontazioni. Doveva essere con noi l'assessore Felicori, era un saluto, ma in questo periodo, come potrete immaginare, vista la fine anticipata della legislatura, l'assemblea legislativa è impegnata in un autentico tour de force, quindi l'assessore è in assemblea legislativa dove sono all'ordine del giorno alcuni atti di importanza strategica. La giornata avrà il seguente programma, la giornata, diciamo, queste prossime, questa oretta e mezzo avrà il seguente programma. Tarò fra poco la parola a Cristina Ambrosini, che come sapete è la dirigente del settore patrimonio culturale, che darà una breve, ma vedrete significativo sintesi dell'impegno della regione in questo settore, e cioè nel settore dei servizi bibliotecari, archivisti museali gestiti da privati. È una tradizione della regione, data tantissimi anni, potrei dire anche un'intuizione della regione, quella di avere costituito l'organizzazione bibliotecaria, come definita dalla 18 museale, integrando anche i soggetti privati, che ovviamente in cambio dei contributi siano disponibili a fornire servizi ai cittadini, che è il nostro obiettivo principale. Poi illustrerò io in grandi linee il bando, il nuovo bando, e poi ci soffermeremo su, come dicevo, su due aspetti usualmente critici, che sono da un lato le rendicontazioni, di cui parlerà anche qui brevemente Chiara Casari, che in questo periodo non lungo con cui è venuta con noi, col settore, si è fatta un'abbondante esperienza di convenzioni rendicontazioni. Quindi qui avrete una vista più amministrativa. Un altro aspetto critico sono le spese ammissibili, di cui qualcuno di voi ha già chiamato anche il sottoscritto, poi spiegheremo, spero in modo esauriente questo aspetto, di questo parlerà Daniela Monteleone, che invece è un funzionario dell'area Biblioteche Archivi, quindi un po' come faccio io, mescola, diciamo così, aspetti e profili culturali e aspetti e profili amministrativi. Detto questo io do subito la parola a Cristina Ambrosini per questa vista MAB, chiamiamola così, proprio su questo settore, quindi trasversale, musei, archivi e biblioteche. Prego Cristina. Grazie Claudio, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questa partecipazione significativa. Io vi prenderò pochi minuti, ma ci teniamo a presentarci tutte le volte, come vedete anche qui, presentarci come staff e come gruppo che lavora sull'ecosistema culturale, del patrimonio culturale della nostra regione, in modo sempre più determinato a sostanziare questo rapporto tra pubblico e privato che ormai è diventato organico e intenso. Quello che la regione, come diceva Claudio, ha sempre fatto, adesso vi condivido alcune slide, per il patrimonio culturale e l'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale gestita o facendo riferimento a soggetti privati, ha avuto un andamento negli ultimi e tre anni più recenti che qui sintetizziamo brevemente. Di che cosa stiamo parlando, chi siamo noi oggi e da dove veniamo? Evidentemente i dati che vi riportiamo sinteticamente vogliono inquadrare quello che è la finalità che ritrovate nell'avviso che abbiamo pubblicato per questo triennio, quindi il 24-26. Al 23, nel triennio appena trascorso, avevamo un numero di convenzioni in totale pari a 56, così distribuiti nell'ambito biblioteche e archivi 37 e 19 rapporti di convenzione con istituti museali privati, facendo riferimenti a soggetti giuridicamente privati, non a scopo di lucro. La Regione e le risorse dedicate a questo mondo, a questo mondo variegato, questo mondo importante perché detiene dei patrimoni significativi, svolge dei servizi importanti per le comunità e per il pubblico e sempre più anche con delle scelte a livello legislativo, la Regione ha dimostrato di voler intrecciare e plasmare questo mondo insieme a quello più tradizionalmente legato all'appartenenza pubblica dei patrimoni. Faccio riferimento per esempio alle leggi recenti che sono state pubblicate e approvate nel 22, quella dedicata alle case di studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna e poi anche quella dei cimiteri monumentali e storici, ma in particolare quella delle case degli illustri, ha fatto emergere in maniera chiara questa realtà private, di realtà private piuttosto significative anche perché depositare di archivi e di biblioteche consistenti. Vi dicevo nel triennio 21-23 a bilancio il settore patrimonio culturale, quindi afferente all'assessorato cultura e paesaggio della Regione ha messo a disposizione complessivamente nel triennio quasi 3 milioni di euro, 2 milioni 944 mila e 600, venivamo da un triennio precedente 2018-2020 dove il budget dedicato a biblioteche, archivi e musei privati era leggermente inferiore, superava di poco i 2 milioni. La bella notizia sicuramente è che dà conto di un impegno e di un convincimento che appartiene alla Regione sulla necessità, l'opportunità di investire in queste realtà, è quella di aver incrementato ulteriormente il budget e quindi abbiamo finalmente superato la soglia dei 3 milioni, quindi a disposizione considerando anche le convenzionate musei abbiamo 3 milioni 225 mila euro. Se vogliamo sinteticamente rifarci a una mappatura territoriale della presenza di questi istituti culturali, che sono istituti biblioteche, archivi e musei, vediamo una distribuzione che vede una prevalenza all'interno del territorio della città metropolitana di Bologna, mi riferisco chiaramente alle convenzioni stipulate in scadenza e scadute, quelle del triennio 21-23, quindi una prevalenza del territorio bolognese e poi vedete appunto una significativa presenza nelle province di Modena, di Ravenna e di Forlice Sena e poi a scendere qualche unità Parma, Ferrara, Rimini, Reggio Emilia e Piacenza. Ecco, diciamo pochi dati, ma per inquadrare quello che è l'orizzonte che vogliamo condividere con voi nel triennio che si apre quest'anno. Che cosa è cambiato? Sono cambiate tante cose, ormai gli anni del Covid ce li lasciamo alle spalle, il settore patrimonio culturale con l'area biblioteche e archivi si è ormai configurato organicamente all'interno della struttura regionale, come avete potuto e come potete constatare negli aggiornamenti continui sul nostro portale. Siamo inseriti nelle programmazioni regionali dei fondi dei FESR in maniera significativa, gestiamo due bandi per la parte della selezione e della concessione, in particolare quello delle Digital Humanities che sta accendendo i motori finalmente adesso, grazie appunto alla pubblicazione della concessione dei soggetti che sono stati ammessi e finanziati. Sono un buon numero e anche per questo bando, avete visto, ci si è aperti a un cosmo che non è di pura appartenenza pubblica. Ormai il patrimonio culturale è chiaro, è chiaro dalle ricognizioni fatte, è chiaro dall'esperienza maturata dai colleghi e dalle colleghe che sono qui con me oggi e che vengono anche da una lunga esperienza con gli istituti beni culturali della regione. Abbiamo maturato appunto questo convincimento del fatto che il patrimonio culturale, il patrimonio degli istituti culturali è di tutti, è gestito da soggetti diversi che hanno missioni importanti, che hanno una funzione per le comunità di riferimento che spesso e volentieri travalica l'orizzonte puramente locale. Questa è una caratteristica di eccellenza della nostra regione. Nello stesso tempo, torno a ragionare sui cambiamenti e le trasformazioni in atto, il fatto di esserci affacciati in maniera consistente alle programmazioni europee e anche ai bandi, ovviamente molti di voi sono anche coinvolti direttamente o come partner in progetti del PNRR. Questo ci porta tutti insieme a dover fare, secondo noi, una riflessione rispetto a una necessità di crescita anche di competenze professionali all'interno dei servizi bibliotecari e archivistici per oggi e poi ovviamente parleremo in modo analogo anche ai nostri referenti istituti museali privati, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere nella competenza, dobbiamo crescere nella professionalità, dobbiamo crescere nell'apertura dei servizi che offriamo, che abbiamo visto anche in questo triennio essere ancora sulla soglia accettabile del standard per quanto riguarda il numero di ore di apertura e di servizi resi al pubblico con continuità, ma dobbiamo rilevare una certa preoccupazione nell'abbassamento di questa soglia. Quindi un po' di risorse in più ci sono, un impegno nostro e vi sarete accorti anche dalle interlocuzioni telefoniche, via mail o nel dialogo continuo che stiamo cercando di migliorare anche attraverso i social e attraverso il nostro portale. Noi vogliamo veramente che questi servizi siano in grado di avere un continuo allenamento per affacciarsi al panorama europeo legittimamente perché l'eccellenza dei patrimoni che custodiscono e anche la pratica del servizio che portano le comunità lo merita, però non nascondiamoci, noi vogliamo anche un rapporto negli aspetti, negli adempimenti amministrativi che sono comunque per noi la cornice necessaria, ineludibile e formale di una sostanza che è quella che invece è il servizio che voi portate avanti e che viene incorniciato in queste convenzioni triennali con la richiesta da parte nostra di avere dei programmi espressi all'interno delle convenzioni che ci diano l'idea molto chiara del respiro delle vostre azioni da non confondere con progetti puntuali. Ecco, vogliamo essere molto chiari in questo perché anche negli aspetti di rendicontazione come già accennava Claudio, dobbiamo crescere, è inutile dire che troppo spesso riceviamo della documentazione che è generica, superficiale, redatta in modo che a volte ci dà l'idea che si dia per scontato che tanto una pezza la dobbiamo consegnare, ma la regione sa che esistiamo e quindi è doveroso che ci sostenga. È fuori di dubbio che la regione crede in voi, è fuori di dubbio che noi vogliamo alimentare e sviluppare questi servizi, ma è anche fuori di dubbio che ci sentiamo tutti impegnati in una crescita anche di qualità di questi servizi. Mi fermo qui e ridò la parola a Claudio. Grazie. Grazie Cristina. Avete visto? Questa è la cornice, potremmo dire razionale, che è alla base non solo di questo bando che abbiamo indiviso come settore, è un impegno che ci siamo assunti, quindi quello del miglioramento anche sotto vari profili, anche naturalmente da parte nostra, perché dovremo sicuramente, intanto cerco di condividervi la presentazione. Guardate un attimo che io comincio a avere la vista un attimo annebbiata. Forse è più facile, se vai in basso a destra, che c'è di concina modalità presentazione. Sì. Vai, 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 ancora no? Ancora uno? Vai. Sì, sì, no, è la mia vista. Non diciamo che queste sono cose di semescenza. Io vi illustrerò molto il bando nel suo complesso. Vedete l'indice è molto schematico, questo spero quindi di essere chiari, speriamo di essere chiari, quindi come vedete dirò chi può presentare domanda, cosa è possibile presentare della domanda, quindi che cosa è possibile finanziare con la domanda, come è possibile presentare la domanda, quando, quanto, immagino sia tema che vi interessi molto, e anche gli strumenti. Ora, per dare anche, rafforzare quanto detto da Cristina circa il contesto, il contesto anche di valori che sta per noi sempre alla base di queste degli avvisi, ma anche della pianificazione, perché noi attraverso questi strumenti amministrativi, realizziamo politiche pubbliche, quindi questo sul versante più regionale, ma diamo anche corpo a idee che nella comunità professionale, bibliotecari, archimisti, museanti, eccetera, eccetera, viene discorso, viene lavorato. Ora, per capire questo bando in particolare, ma poi il discorso sarà analogo anche per i musei con altri articoli della legge, vedete qui abbiamo riprodotto due articoli della 18, che soprattutto a chi ci ascolta che è nuovo, speriamo ce ne siano, è utile richiamare. L'articolo 11 definisce che cos'è l'organizzazione bibliotecaria e vedete che è, al di là del nome, una cosa assai estesa, perché indica le biblioteche, gli archivi, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche. In questo vedrete anche una certa età della 18, in questa mediateca era proprio attorno al 2000, un termine molto in voga, fatto proprio anche dall'AIB, ricordo, e dal Ministero allora, centri di documentazione, centri di documentazione e informazioni e via di seguito. Questo va letto assieme all'articolo 12, perché spiega perché noi investiamo risorse nell'organizzazione bibliotecaria. Le biblioteche degli enti locali, dice l'articolo 12 al comma 3, e quelle convenzionate, incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Quindi il richiamo che prima è stato fatto anche alla crescita è legittimato anche dalle norme della 18, cioè noi investiamo non tanto per un sostegno fine a se stesso di un istituto, ma per accrescere i servizi, le opportunità informative per l'utente finale, e se vogliamo essere ancora più espliciti per il cittadino. Il comma 4, le biblioteche e gli archivi partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi e uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguano adeguando ad essi le proprie strutture e servizi. Quindi vedete come al legislatore regionale nel 2000 era molto chiaro che l'investimento dovesse tradursi in servizi e in servizi di qualità. Quindi uno sforzo collettivo di crescita, collettivo vuol dire riguardante sia le biblioteche pubbliche, sia le biblioteche o archivi o istituti privati, per garantire ai cittadini livelli minimi e uniformi di qualità. Notate i termini che sono naturalmente diventati anche di recente di grande attualità per i musei, ad esempio con l'approvazione a livello nazionale qualche anno fa dei livelli uniformi di qualità, e vi dico sul versante biblioteche e archivi un approccio da paese in questa tematica, non sappiamo se sarà possibile o di attualità, ma comunque nei propri atti di programmazione la regione ha previsto di lavorare, quindi auspicabilmente con la comunità nazionale, ma in ogni caso noi l'abbiamo in programma, appunto di adeguare gli standard cosiddetti standard di qualità che vedremo anche a breve e chi è abituato a questo bando conosce perché è uno dei requisiti. Cominciamo dalla prima, chi può presentare dal primo punto dell'indice? Chi può presentare domande? Perché qui abbiamo introdotto quest'anno una novità, credo molto significativa. Abbiamo introdotto due linee di intervento, quindi il bando guarda a due soggetti, che vedete riassunti in questi box, così vedete anche la nuova torre in cui siamo, questa immagine è stata fatta, inserita per farci vedere dove siamo, che sono locali meno attrattivi del palazzo di Via Galliera dove eravamo, ma insomma, vedete, siamo vicini all'assemblea legislativa che è il palazzo con le bandiere davanti. Quindi noi abbiamo immaginato anche in base all'esperienza due possibili utenti di questo bando, due possibili fruitori. Il primo, gli istituti che tradizionalmente fluiscono di queste risorse e che hanno la caratteristica proprio di essere istituti, istituti vuol dire biblioteche, vuol dire archivi, di rilevanza regionale, quindi come istituti e come servizi che erogano. Nel tempo però abbiamo visto, come accennava anche Cristina nella sua introduzione, abbiamo visto comparire anche realtà nuove, realtà associative nuove, più piccole, quindi anche più fragili da un certo punto di vista, ma che gestiscono patrimoni di rilevanza regionale. Quindi nel primo linea di intervento il focus è sull'istituto e quindi sui servizi che eroga, nel secondo è più sulle collezioni, sulle raccolte che questi soggetti possiedono e che sono di possibile interesse per i cittadini. E avete visto come uno dei compiti che la 18 assegna all'organizzazione bibliotecaria è proprio quella di incrementare anche l'offerta documentaria, l'offertice. Chi fa domanda quindi dovrà scegliere se è partecipare alla linea di intervento 1 o alla linea di intervento 2, che nel proseguo, vedete, sono diverse, hanno requisiti diversi e anche finanziamenti diversi. Quindi attenzione a chi, nel momento in cui fare domanda, analizzate bene le vostre caratteristiche e poi scegliete. I requisiti soggettivi sono simili, simili per entrambe le linee, quindi a parte la connotazione identitaria, vedete, istituti di rilevanza regionale oppure soggetti che conservano raccolte bibliografiche, documentarie, fotografiche, che fate voi, di rilevanza regionale, cioè di interesse per la comunità regionale. L'assenza di fini di lucro è il primo requisito, avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna è il secondo, e qui vedete una prima differenza, operare con continuità da almeno cinque anni, nel caso delle linee di intervento 1, quindi avere una certa anzianità di servizi, diciamo che nel tempo ha consolidato anche l'istituto, dando anche un'autorevolezza, un brand, e noi abbiamo in questo caso diversi istituti che hanno queste caratteristiche, anche perché questi finanziamenti hanno tanti anni. sono iniziati con la legge precedente, la 18, quindi stiamo parlando degli anni 80. La minore anzianità di servizio, tre anni, è invece richiesta per la linea di intervento numero due. L'altra, importante, non avere altre convenzioni in essere con la regione in ambito culturale, questo è una clausola che è presente nei nostri bandi, ma anche in modo corrispettivo, spesso nei bandi del settore attività culturale, ovviamente per cercare di distribuire con maggiore efficacia le risorse. In entrambi i casi, ad eccezione di convenzioni SBN. Ci sono biblioteche, poi vedremo anche qui con i requisiti oggettivi le differenze, naturalmente che sono parte dei poli SBN, questo avviene con un'convenzione. i soggetti, le biblioteche finora finanziate, quindi tipicamente quelle della linea 1 lo sono già, queste convenzioni non rientrano nel criterio del punto 4. Questo vale anche per la linea 2, nel caso ci siano soggetti con quelle caratteristiche che sono già parte o intendano, cosa che a noi parebbe piacere, intendano aderire alle convenzioni SBN. I requisiti oggettivi sono invece un po' diversi, perché ovviamente noi abbiamo di fronte, così come noi li abbiamo immaginati, immaginati da un lato, linea 1, servizi, istituti più strutturati, più, se vogliamo, anche più grandi, con più anzianità di servizio, che operano da anni, e dall'altra invece anche, speriamo, realtà nuove, che gestiscono anche patrimoni nuovi, che siano capaci di portare e anche un certo dinamismo, una certa novità nell'organizzazione bibliotecaria regionale. I requisiti oggettivi per la linea di intervento numero 1 sono, naturalmente, visto che stiamo parlando di istituti e servizi, offrire al pubblico in modo continuativo servizi di riconosciuta valenza, almeno regionale. Noi abbiamo anche istituti che per le loro caratteristiche negli anni si sono affermati anche a livello nazionale come punti di riferimento. Quindi questo, per dire, anche a valorare la bontà delle politiche pubbliche svolte nel settore. Quindi questi servizi devono avere una valenza riconosciuta, almeno regionale. Di qui l'ottemperanza, io adesso non ve li sto a citare, ma nel sito in cui trovate la documentazione è, come da tanti anni, in questi bandi c'è anche il link per leggersi gli standard di qualità dei servizi bibliotecari e archivistici, che sono datati, sono un po' datati, risalgono al 2003. Qui potete vedere di che si tratta. E il rispetto degli standard, naturalmente, soprattutto per gli istituti che faranno domanda sulla linea 1, dovrà essere e sarà per noi più stringente. questo anche per assicurare la crescita complessiva del sistema, ma anche perché il rispetto di livelli di servizio è un tema che, come vi ho accennato, almeno nel caso dei musei, ma non solo, è un tema dell'agenda delle politiche pubbliche in tema culturale. Altro requisito, avere avviato almeno progetti di descrizione e digitalizzazione, qui naturalmente coloro che hanno partecipato anche al bando sulla digitalizzazione che abbiamo questi mesi, e qui abbiamo lavorato in questi mesi, naturalmente avranno risorse per sviluppare al meglio, speriamo, questo requisito, svolgere attività di accertato e rilevante valore culturale, contribuire fattivamente alla cooperazione anche in sede locale, oltre che all'interno dell'organizzazione bibliotecaria regionale. La linea di intervento 2, vedete che pone il focus al solito non tanto sull'istituto in sé, quindi sui servizi che eroga, ma più sulla collezione, sulle raccolte, quindi sulla cura e valorizzazione di queste, sulla cura e valorizzazione di raccolte archivi che devono avere una loro, una rilevanza regionale, cioè devono essere di interesse per la comunità regionale. anche qui c'è il rispetto delle standard di qualità, ma in una versione, diciamo, più attenuata, chiamiamola così, poi naturalmente nel bando la vedete esplicitata meglio, io le ho condensate in queste slide, quindi vedete otto ore minimo di apertura, SBN non chiediamo di essere aderenti già ora a questi soggetti a SBN, ma magari di impegnarsi e di lavorare per esserlo in futuro. chiediamo che abbiano cataloghi, questo è il minimo sindacale, strumenti di identificazione e ordinamento, questo è per caso di archivi, che si faccia didattica, che si faccia promozione e che si abbia un sito web, lì c'è un rifuso, come potete vedere, che svolgano come attività di studi e ricerca sul proprio patrimonio, vedete che di nuovo il patrimonio è al centro, per quanto riguarda le linee di intervento numero due, svolgere attività di accertato e rilevante valore culturale, che naturalmente riguarda anche la linea 1. Non ho menzionato perché trasversare una cosa che è la palissiana, diciamo così, essendo queste convenzioni triennali, entrambi dovranno lavorare con una programmazione triennale, e quindi uno dei requisiti è anche ragionare, lavorare in questa ottica. Cosa è possibile presentare dalla domanda? Quindi vuol dire cosa è possibile farsi finanziare con questo bando, diciamo così. Qui dovrete fare riferimento riferimento a quelle cose che vedete sulla destra, che sono le linee di azione, gli interventi prioritari collegati alle linee di azione, del vecchio programma regionale. È in corso di approvazione il nuovo programma regionale, ma essendo questo bando uscito prima, fa riferimento ancora a queste. E qui vedete i punti 2.1, 2.2 e 2.3. Quindi progetti dovranno riguardare nuovi servizi o allestimenti, quindi attrezzature, redi, dotazioni tecnologiche degli istituti in particolare. Potranno riguardare, vedete, nella linea 2.2 ho sottolineato catalogazione, in particolare ritenendo che sia questa una delle attività in cui tipicamente questo bando è utilizzato, due o tre progetti di attività valorizzazione di beni raccolte istituti. Questa è proprio la valorizzazione a punto tondo. Quindi sono ammissibili programmi di attività triennali che siano coerenti con queste aree. Questi programmi e queste attività che voi inserirete e presenterete in un programma triennale saranno poi oggetto, nel caso si sia selezionati, di una convenzione triennale. Quindi 2024-2026. Qui è già arrivata una domanda e qui vi dirò che in questo bando, come nei futuri, domande che vengano fatte e che siano di interesse comune utilizzeremo anche il sistema delle facche per dare risposte. Una delle domande poi sarà ripresa credo dalle mie colleghe ha riguardato proprio il punto 2.1. Qui si dice naturalmente nuovi servizi allestimenti, dotazioni tecnologiche. In altre parti si dice che non sono ammesse come spese ammissibili le spese che hanno un impatto sull'accrescimento del patrimonio dell'ente e quindi quelle in conto capitali. Ma se io compro computer o attrezzature informatiche da un lato mi dici così dall'altro mi dici così. Ecco, qui tenete sempre conto qual è il perimetro. Il perimetro è il programma. Quindi se questo tipo di spese è strettamente funzionale alla realizzazione del programma va bene. Se invece si intende ad esempio comprare i computer per la segreteria dell'E non va bene. Questo che ho banalizzato cercheremo di spiegarlo al meglio nelle facca. Le vostre domande di partecipazione o alla linea 1 o alla linea 2 avranno è bene che quindi questa finalità di questa diapositiva è questa di rendervi consapevoli e anche noi per trasparenza qual è il processo il processo valutativo. Quindi vedete che al primo posto c'è un'istruttoria formale che riguarderà in particolare il punto 7 dell'avviso e qui vedete quali sono gli elementi su cui dovete porre attenzione perché si rischia l'esclusione li trovate nel bando io le ho trascritte quindi si chiede la trasmissione via PEC devono essere presentate da soggetti dai legali rappresentanti fatto salvo deleghe e quant'altro con le modalità che poi trovate descritte nel bando i programmi devono essere conformi a quello che il bando dice le domande non devono essere trasmette oltre la scadenza del bando queste sono come vedete in gran parte cose di buon senso e anche ci deve essere presente nelle domande la documentazione definita come obbligatoria e che nel bando è provate elencata questa è l'attività che viene svolta in genere dal responsabile del progettimento però assieme a questo secondo modo di operare della regione a un gruppo di lavoro che è nominato con determina del direttore generale della nostra direzione una volta scremate quindi quelle domande quindi che noi speriamo quindi che tutti superino la fase veramente formale del controllo si passa alla valutazione di merito che viene fatta con dei criteri che vedrete vi farò vedere fra poco e anche qui naturalmente la valutazione andrà a vedere spese ammissibili su cui poi vedrete un apposito focus e si avrà il quadro degli ammessi dei non ammessi con le ragioni della non ammissione e anche una proposta di contributo questo poi passa alla giunta regionale che approva gli esiti diciamo del lavoro istruttore e poi passerà al dirigente in questo caso dell'area per gli atti di concessione e di impegno questo è il quadro questi che vedete e che penso avrete visto nella lettura del bando sono i criteri quindi come saranno valutati questi progetti e sono criteri diversi sono più articolati e più vedete i criteri elencati due tre molto quindi attenzione molto calibrati proprio sul rispetto di livelli di profili di requisiti minimi di servizio quindi qui viene premiato coloro che vanno oltre quindi è la crescita no che dicevamo all'inizio vanno oltre i requisiti minimi viene riconosciuto con un punteggio superiore naturalmente la somma fa 100 e i progetti ammessi devono raggiungere almeno 60 l'altra linea di intervento vedete come avevamo detto qui però devo aver fatto un po' di errori io quindi ve la dico a voce non ci sono queste due agli anni sono vabbè ve lo dico a voce e sono criteri perché ritrovate diciamo nella tabella del bando sono criteri più calibrati sul patrimonio e sulle collezioni e sulla gestione delle collezioni quindi è la distinzione su cui vi ho richiamato già all'inizio da un lato l'istituto perché è più consolidato i servizi e di quali collezioni detto questo come si fa la domanda qui è una un riassunto la prima cosa che dovete fare naturalmente come vi ho già detto è scegliere la linea di intervento è come aprire due flussi due due canali quindi la linea di intervento uno o due e in quel caso userete domande e allegati pertinenti con la linea di intervento e attenzione allegare i documenti obbligatori documenti obbligatori sono quelli che poi non possono essere diciamo sanati o integrati o ci sono o non ci sono possono al limite essere regolarizzati ma non integrati e quindi si rischia in questo caso l'esclusione e anche qui come vedete sono in gran parte di buon senso che ci sia un programma triennale articolato annualmente e un piano dei costi credo sia di buon senso ed è peraltro ciò che consente anche al nucleo di valutazione di esprimi di esprimersi lo statuto o l'atto costitutivo il bilancio di previsione questa dichiarazione astrusa non è così diciamo forse riguarderà alcuni di voi questa è nata vedete anche l'anno 2010 nell'epoca del picco della crisi economica e dice in sostanza che e quindi picco vuol dire spending review dice in sostanza che se un soggetto avente natura privata riceve contributi pubblici i suoi organi non so il consiglio di amministrazione non può prevedere come dire compensi ma credo che anche questo sia ormai entrato insomma nel senso comune nelle cose abbastanza consolidate e poi viene richiesto schede di censimento che sono diverse a seconda diciamo degli abitui di questo bando che quindi magari sono già registrati nei nostri sistemi informativi quindi dovranno limite fare degli aggiornamenti o nel caso siano del tutto nuovi e quindi si debbano debbano un po' dichiarare un po' l'anagrafica delle cose del soggetto e delle cose che fanno ma anche in questo trovate documentazione necessaria sia nel sito che credo si siate già arrivati e sia nel bando trovate le spiegazioni la ratio di queste di questi censimenti che sono una caratteristica nostra in tutti i settori è naturalmente monitorare il profilo al di là del profilo anagrafico nome cognome eccetera ma avere dati sui servizi sul personale sul sui finanziamenti sulle spese eccetera perché concorrono da parte nostra proprio a individuare il profilo dell'istituto e l'ottemperanza o meno anche a questo punto di vista agli standard di qualità come va inviata la domanda via PEC quello che vedete è l'indirizzo la PEC ormai è credo diffusissima anche tra le persone fisiche private anche perché ha un costo diciamo davvero apportabile ricordatevi infine di sottoscrivere le domande anche questa è una banalità ma è già successo che arrivino domande non sottoscritte digitalmente caso a non sottoscritte dal legale rappresentante o suo delegato perché magari manca la delega manca la co in questo caso il bando qui è una nostra forma quasi di indulgenza prevede anche la firma analogica nella delega cioè però a quel punto ci deve essere anche il documento di identità di colui che ha delegato quindi delegare rappresentante che ha delegato alla firma all'invio alla costruzione diciamo del programma quindi come vedete qui si tratta di cose molto elementari non dovete nemmeno a differenza di altri bandi regionali accedere a specifici sistemi informativi che ovviamente richiedono anche un come dire un addestramento all'uso questa è la forma più semplice e naturalmente la facciamo perché non prevediamo un numero diciamo il numero di domande che è arrivato sul sul bando di digitalizzazione prima richiamato questa è la scadenza del bando nelle bando trovate indicate altre scadenze però questa che vedete è quella che dovete naturalmente memorizzare le altre sono la gestione della convenzione nel corso dei tre anni quindi le date per la presentazione di contazione notate l'ultimo punto per i soggetti della linea di intervento numero due che noi immaginiamo quindi come dicevo meno robusti degli altri perché magari sono nuovi oppure sono in condizioni un po' diverse noi qui è possibile anche presentare un sal intermedio entro il 30 settembre alle condizioni che sono indicate nel bando però e quindi leggete attentamente ecco questa è la parte più forse ti può interessare molto e cioè quanto è possibile ottenere col bando questi sono i soggetti della lì che partecipano alla linea di intervento numero uno soglia minima annuale quindi del costo del progetto o del programma per meglio dire che viene presentato nel suo stralcio annuale 25.000 euro percentuale massima del contributo concedibile l'80% limite massimo del contributo 70.000 poi naturalmente trattandosi di una convenzione triennale sono gestite tre annualità di finanziamento e qui attenzione perché per il soggetto pubblico erogante queste tre annualità con l'attuale legislazione sulla contabilità pubblica hanno un grande rilievo perché rappresentano la competenza quindi quando noi parliamo di annualità 24 le spese che voi rendi contate devono essere riferite all'anno 24 e così via quindi non al 25 perché magari potete rendi contare poco dopo l'inizio dell'anno e quindi finisce qualche spesa di gennaio sono per noi importanti ed essendo importanti nel senso che è un principio contabile che noi dobbiamo applicare e dopo siamo un po' intransigenti anche con voi nelle rendicontazioni quindi sappiate che non è per nostro spirito burocratico perché nel settore culturale noi ci sentiamo tutti innanzitutto orientati al perseguimento di finalità di interesse pubblico culturale diciamo anche alla soddisfazione del cliente però dobbiamo rispettare dei principi e delle norme perché stiamo utilizzando denaro pubblico quindi ci sono alcune cose su cui non possiamo essere flessibili questo meglio che tutti ne siamo consapevoli per poi capirci anche nelle interlocuzioni che avremo a proposito ad esempio delle rendicontazioni la linea di intervento numero due è più come vedete è più 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 gracile da questo punto di vista anche quindi la soglia minima annuale del costo del progetto è 3500 euro percentuale massima di contributo è 80% come nel caso precedente però il limite massimo del contributo concedibile è 20.000 euro quindi questi elementi vi devono servire elementi relativi al finanziamento elementi relativi o obblighi relativi agli obblighi anche in termini di ottemperanza ai requisiti che avete visto tutto tutto questo vi deve servire per scegliere la linea 1 o la linea 2 con consapevolezza il limite massimo è anche 20.000 e il discorso sulle annualità è identico al precedente io sono quasi alla fine spero di essere stato nei tempi allora noi prevediamo ovviamente il supporto informativo attraverso il sito web le FAQ che compreranno poi avete anche nel sito scritti indicati gli indirizzi di posta elettronica poi naturalmente noi riceviamo anche telefonate e vedete anche i colleghi coinvolti le colleghe coinvolte che sono attraversano i profili più amministrativi e quelli un po' più culturali per supportarvi le informazioni però tutta in questo caso l'area è coinvolta poi nella gestione di queste convenzioni perché anche per esperienza nel corso anche delle precedenti convenzioni possono sorgere non dico problemi anche aspetti che richiedono il supporto anche scientifico di questo o quel funzionario quindi qui siamo coinvolti tutti per la migliore riuscita di questo bando a cui teniamo molto anche perché come avete visto devo dire questa legislatura la regione e questa legislatura hanno investito hanno investito aumentando le risorse in generale per il patrimonio culturale ma anche come vi ha fatto vedere Cristina investito in questo specifico settore e quindi a fronte di questo sforzo noi siamo tutti impegnati e anche voi vi chiederemo di esserlo tutti insieme proprio nel dimostrare la bontà di questa scena ora io passo la parola vedete a due colleghe che affrontano due temi che tradizionalmente sono quelli più caldi da questo punto di vista quindi la rendicontazione i controlli connessi su cui vi dirà Chiara Casari e le spese ammissibili altro tema che spesso è oggetto di chiamiamole discussioni di cui invece parlerà Daniela Monteleone io mi fermo qui anche perché la successiva diapositiva come vedete è semplicemente di ringraziamento e chi tocca di voi due per prima Daniela con le spese in ordine in ordine logico Daniela Monteleone ormai la conoscete credo perché sta con noi da dal 21 da tre anni da tre anni quindi dal 21 vedi che ci ho detto e Chiagiaz segue ha seguito la precedente convenzione prego buongiorno a tutti volevo chiederti Claudio ci sono delle domande in chat non so come ci vogliamo regolare se rispondiamo adesso o tutte alla fine è meglio rispondere subito così li pacchettiamo su questi temi che ha trattato Claudio risposte se c'è qualche domanda rispondiamo allora leggiamole così la prima è salve vorrei chiedere come si misura la rilevanza regionale del patrimonio bibliografico ci sono dei parametri numerici di riferimento nel nostro caso un patrimonio di circa 3500 libri che desidereremmo ampliare potrebbe essere abbastanza rilevante e potrebbe dipende ad esempio dal tema noi siamo alla ricerca ora immaginate una vista sull'intera regione organizzazioni bibliotecaria 3500 libri non sono tanti ne ho più io a casa ad esempio di questi però dipende da altri fattori ad esempio qua se fossero discipline tematismi nuovi inusitati noi qui facciamo una valutazione ad ampio spettro non è che ci fermiamo immediatamente è chiaro che un fondo coerente di una 40.000 volumi come potete immaginare ha una una rilevanza già consistente un fondo specialistico di 3500 volumi magari su un tema non praticato non non comune negli attuali istituti potrebbe anche questo averlo su questo metriche ci sono metriche quantitative ma quelle qualitative diciamo sono ovviamente dipendono dai dai contesti in questo caso dai già dalle agglomerazioni bibliografiche o documentarie che fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria in questo caso poi un'altra domanda tra le attività di valorizzazione del patrimonio si possono annoverare anche gli incontri con gli autori o i festival letterari qui adesso detta così naturalmente noi guardiamo un programma triennale se c'è coerenza ad esempio un incontro con autore che parla adesso sto andando ovviamente per esempio su un ambito disciplinare che caratterizza l'istituto perché no naturalmente è possibile il festival letterario attenzione per la sua natura e per le sue caratteristiche dico attenzione perché la regione fa diversi bandi e fa anche bandi sul settore nostro cugino Cristina come lo chiamiamo nostro che è il settore attività culturali quindi attenzione a guardare naturalmente la coerenza anche di questo bandi magari con quell'altra attività tenendo presente che poi se uno avete visto quella chiamiamola clausa di non cumulo dei contributi che vi abbiamo illustrato cioè se uno partecipa a una convenzione non può stare in un'altra quindi diciamo la presentazione di libri è già adesso credo sia uso comune il festival letterario bisogna analizzatelo bene perché ci sono anche altre fonti di finanziamento forse più coerenti con la natura di questo evento poi c'è un'altra domanda potete chiarire in cosa consiste la scheda di censimento sì questo può quindi questo non l'avete nemmeno aperta diciamo devo dire no cioè la scheda di censimento è è accessibile dal sito adesso prima di dare la parola a Francesca Francesca Ricci segue gli archivi in modo particolare però la logica delle schede di censimento noi abbiamo per le biblioteche un sistema informativo Sibib quindi molti dei partecipanti a questo bando sono già probabilmente registrati e quindi gli aggiornamenti vengono fatti così quelli nuovi devono fare queste schede che come dicevo illustrano i principali profili di attività da quelli relativi all'istituto diciamo così a quelli relativi ai servizi prego Francesca hai già detto tutto per sollevarti da una risposta volevo dire se arrivavi a un dettaglio maggiore certo allora trovate nell'articolo 6 del bando e tra gli allegati pubblicati la scheda l'allegato A4 e l'allegato A5 che sono le due schede di censimento da utilizzare uno per archivi l'altro per le biblioteche qualora voi non siate mai stati censiti in uno dei due sistemi di censimento regionali per archivi o biblioteche se avete dubbi al riguardo contattateci e vi diciamo se siete censiti o meno se siete censiti e quindi se non dovete compilare la scheda di censimento A4 o A5 dovrete tuttavia o aggiornare o aver aggiornato la vostra scheda in Sibib oppure compilare allegare per gli archivi l'allegato 6 che è un allegato più sintetico più breve della scheda di censimento che serve ad aggiornare i dati per quei soggetti che sono già censiti nel sistema archivistico regionale per dubbi su questa situazione che è abbastanza di dettaglio contattateci via mail e rapidamente vi diamo riscontro poi c'è un'altra domanda il limite massimo di contributo concedibile questo per la linea 1 è 70 mila euro all'anno o in totale no 70 mila Cristina Ambrosini vi ha fatto vedere un esborso notevole della regione se facessimo 70 mila in tre anni vorrebbe dire che noi conteremo su una partecipazione consistente invece sono 70 mila annuali 70 mila annuali poi c'è un'altra domanda buongiorno è obbligatorio come biblioteca concedere i volumi in prestito locale e o interbibliotecario per accedere al bando di convenzione se scorrete la 18 c'è proprio un articolo che parla di questo ne parla per le biblioteche pubbliche però la logica come dicevo di questo contributo non è il sostegno fine a se stesso di un soggetto e il sostegno a quel soggetto affinché faccia dei servizi poi su sulle caratteristiche del prestito qui ci si può naturalmente intendere cioè non vanno a prestito libri di un certo tipo eccetera eccetera però questi sono servizi di base che nel caso della linea 1 si dà per come dire scontato devono essere fatti nel caso della linea 2 che come ho detto possono essere realtà più piccole realtà da aiutare un percorso di crescita questo deve essere il fine può non essere attualmente ma deve essere il fine cioè bisogna arrivare nel periodo della convenzione a garantire almeno servizi di consultazione e qualche prestito con modalità che poi possono essere definite come dicevo escludendo questo o quel materiale si può dire il prestito il magari è più oneroso più laborioso eccetera però sui servizi anche qui quindi adesso quando fate le domande magari chiamate questo per calibrare la risposta al singolo istituto così inastratto questo vale anche per gli enti pubblici la 18 addirittura parla di questo e addirittura anche della gratuità per gli enti pubblici pensate che recentemente un comune si era accorto di avere nel regolamento una specie di tassa per la biblioteca e ha il consiglio giustamente ha provveduto a toglierla per rimarcare che insomma su questo la legge 18 è abbastanza esplicita sono considerati servizi di base quindi sono servizi di base dell'organizzazione bibliotecaria globalmente intesa poi abbiamo un'altra domanda sulle spese non ammissibili questa la puoi gestire tu quando esatto comunque sì è possibile l'acquisto di libri e periodici per incrementare il patrimonio della biblioteca direi proprio di sì gli allegati vanno inviati su carta intestata adesso non ricordo questo sì questo però non è causa di esclusione no appunto no sicuramente no c'è di peggio eh sì allora poi nel precedente bando per i progetti di digitalizzazione l'Ateneo di Bologna ha potuto partecipare con un'unica richiesta e così anche per questo bando potrebbero avanzare richieste anche le singole biblioteche questo bando non è aperto all'università di Bologna né all'università né al comune di Bologna e questo bando è per soggetti privati associazioni fondazioni e stop colgo l'occasione per dire che l'università di Bologna no adesso scusa l'università non l'università di Bologna per l'Istat è un'amministrazione locale come un ente diciamo simile al comparto degli enti locali quindi non ha una natura privata eccetera questo non è un bando per soggetti pubblici né per fondazioni bancarie è fatto per fondazioni della cultura associazioni terzo settore e via il sì un'altra domanda troppe domande il sito web deve essere già attivo anche qui se è linea 1 che vuol dire tipicamente enti che sono affezionati a questo bando mi aspetto di sì anzi se è la linea 2 si può vedere un'associazione però in genere oggi la modalità comune e anche nel settore culturale può essere cioè lì non credo che il bando diciamo è il buon senso ecco in questo caso dobbiamo fare in modo che tutti abbiano il proprio sito web questo sì sì perché si appunto noi era tra i requisiti diciamo anche nella linea 2 avere il sito web quindi è il minimo sindacale oggi esatto allora poi c'è un'altra domanda sulle spese quindi questa la tratterò io dopo mi chiedono il programma 24 è già completamente definito quello 25 26 potremmo indicare solo delle linee orientative sì la programmazione comunque è triennale occorre specificare anno per anno sì questo è uno sforzo che dovete fare perché guardate che è solo negli ultimi anni che noi abbiamo confermato e anche impegnato le risorse sul triennio prima erano convenzioni triennali ma subordinate ogni anno la presentazione di un progetto avere una orizzonte triennale definito anche economicamente credo sia un grande vantaggio per chi opera nel settore della cultura vuol dire non chiedersi l'anno dopo dove andare a trovare dei soldi questo però è il vantaggio richiede capacità di programmazione è chiaro magari tra tre anni nel dettaglio la data dell'evento però una pianificazione delle cose da fare questo ce l'aspettiamo ci sono diverse domande io direi di andare avanti e poi riprenderle se riusciamo dopo perché altrimenti non comunque risponderemo naturalmente a queste domande perché altrimenti non andiamo avanti ok allora condivido ok vedete la condivisione sì è arrivata allora parliamo adesso delle spese ammissibili quindi innanzitutto le caratteristiche generali delle spese che devono innanzitutto essere direttamente come ha detto prima il dottor Leombroni collegate e chiaramente funzionali alla realizzazione del programma di attività quindi ci deve essere un nesso tra le attività che si svolgono e le spese che si vanno ad indicare devono essere riferite all'arco temporale della realizzazione del programma quindi è chiaro che se io ho delle attività che programmo nell'anno 2024 le spese che si riferiscono a quella parte di programma dovranno essere relative ad attività che si sono svolte dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e così per gli altri anni devono essere documentabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi questo ve lo spiegherà meglio Chiara successivamente Claudio se magari spegni il microfono si sentono i rumori di fondo dell'ufficio purtroppo grazie si sentono i rumori di una nostra le voci che è una nostra cosa ok le spese sono intese tutte al netto di bolli di imposti o altri oneri o commissioni e questo dipende un po' dalla vostra fiscalità dell'ente quindi si intendono diciamo le spese che dovete indicare possono essere o al netto di IVA o con IVA ciò dipende dalla vostra fiscalità quindi dovranno essere considerate al netto di IVA oppure incluse di IVA nel caso in cui l'IVA costituisca effettivamente un costo per voi quindi non sia recuperabile non sia detraibile in questo caso occorre allegare alla domanda una dichiarazione del rappresentante legale che attesti l'indetraibilità dell'IVA indicando la norma di riferimento per la quale ciò avviene quali sono invece le spese non ammissibili da bando sono tutte le spese che sono relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili quindi no ai lavori di nessun genere le spese che sono relative alle utenze quindi spese che per appunto la corrente elettrica la linea telefonica e altro spese di assicurazione relative sempre agli immobili che ospitano le biblioteche o gli archivi il controverso punto che approfondiremo successivamente cioè le spese per acquisto di beni strumentari durevoli e spese di investimento che incrementino il patrimonio dell'ente e qui c'è una leggera differenza perché è consentito sulla linea 2 per un massimo di 3.000 euro però vedremo successivamente in quale caso non sono messe spese che si riferiscono a una quantificazione economica del lavoro svolto dai volontari che spesso insomma tante di voi sono associazioni quindi che si diciamo sostengono con il lavoro dei volontari quindi non è possibile quantificare il lavoro volontario in maniera economica non sono ammissibili le erogazioni liberali contributi economici o le quote associative tranne quella che accettiamo diciamo è la quota di adesione al polo SBN per le biblioteche non sono ammissibili anche interessi commissioni bancarie e altri oneri di operazioni finanziarie allora andiamo a precisare quelli che sono un po' diciamo i punti più controversi del 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 bando quindi le spese di investimento come ha detto anche Claudio precedentemente strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività sono spese che per noi sono ammissibili quindi dicevamo l'acquisto di libri è ovvio che l'acquisto di libri va ad incrementare si incrementa il patrimonio dell'ente ma incrementa anche il patrimonio a disposizione degli utenti va a favore dell'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria regionale quindi è chiaro che l'acquisto di libri è una spesa che noi accettiamo altri esempi potrebbero essere il programma prevede l'acquisto di un considerevole numero di volumi per i quali necessitano anche nuove scaffalature e quindi inserisco sia l'acquisto dei volumi sia l'acquisto di nuovi scaffali il programma prevede una serie di incontri all'aperto per i quali ho necessità di un impianto di amplificazione altrimenti gli utenti non sentirebbero nulla anche quella è una spesa che è estremamente legata al progetto oppure il programma prevede l'acquisto di tablet per l'utilizzo da parte degli utenti in biblioteca per l'accesso ad un nuovo servizio di biblioteca digitale quindi io ho intenzione di mettere a disposizione un nuovo servizio di biblioteca digitale ho bisogno di acquistare anche dei tablet per gli utenti quindi l'importante è che queste spese di investimento diciamo intanto non siano una parte preponderante del programma e poi siano strettamente collegate alla realizzazione del programma stesso soprattutto per quello che riguarda la linea 2.1 nuovi servizi allestimenti e dotazioni tecnologiche quindi quello che invece non è come diceva prima Claudio ammissibile è una spesa che fine a se stessa per esempio compro appunto un nuovo personal computer per il personale amministrativo questo non rientra diciamo nello spirito del bando altre precisazioni sulle spese del personale il bando prevede che si possano inserire spese del personale dedicato ai servizi bibliotecari archivistici nella misura massima del 20% delle spese ammissibili cosa rientra qui dentro rientra diciamo il personale che svolge attività di tipo bibliotecario archivistico pensiamo del personale interno che magari si occupa della catalogazione questo personale ecco può essere per noi sia un personale dipendente a tempo indeterminato e sia a tempo determinato quindi diciamo degli esperti anche esterni che hanno un contratto a tempo determinato e quindi sono legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'istituto invece non rientrano in questo 20% le spese per prestazioni occasionali quindi per esperti che faranno delle prestazioni occasionali al termine nelle quali appunto faranno una nota di prestazione occasionale oppure presenteranno una fattura quindi quelle vanno fuori dal 20% un altro limite diciamo percentuale che è espresso nel bando è quello per le spese generali spese generali il bando prevede ad esempio ma non è in maniera esaustiva diciamo materiali di consumo cancelleria spese postali pulizie straordinarie guardiania straordinaria commercialista consulenti eccetera nella misura massima del 10% delle spese ammissibili qui insomma anche perché ci sono arrivate delle domande in merito nelle spese generali rientrano quindi collaborazioni esterne per attività di tipo amministrativo contabile mentre quelle per personale esterno che è impegnato invece in attività culturali non rientrano tra le spese generali c'era arrivata questa richiesta di chiarimento abbiamo messo qui per esempio pulizie straordinarie guardiania straordinaria questo perché appunto non andiamo a considerare diciamo la vigilanza ordinaria eccetera che è sulla proprio completamente dal bando però se io faccio un evento e magari ho bisogno poi alla fine dell'evento di una pulizia straordinaria ecco questo è ammissibile però va dentro questo limite del 10% trovate questo volevo un attimino anche per un discorso di tipo più pratico troverete l'allegato a 7 che è il piano dei costi lo trovate sia nella domanda e sia vi chiediamo di compilarlo in un file excel anche per comodità di verifica successiva in questo piano dei costi dovrete indicare gli obiettivi e le azioni e per ogni azione le voci di spesa suddivise nelle tre annualità come obiettivo appunto l'obiettivo che vi chiediamo di indicare è quello del programma regionale qui trovate anche il link se vi può risultare più comodo e quindi uno degli obiettivi che sono inseriti o nel 2.1 2.2 e 2.3 e le azioni prioritarie sono quelle anche che sono indicate per ognuno di questi obiettivi all'interno del programma regionale qui ho messo così un esempio ad esempio l'obiettivo un vostro obiettivo 1 potrebbe essere nuovi servizi che sarebbe parte dell'obiettivo del programma 2.1 l'azione 1 potrebbe essere realizzazione di nuovi servizi che è una delle azioni che trovate nel programma regionale sotto l'obiettivo 2.1 e nello specifico per esempio l'emeroteca digitale le voci di spesa correlate potrebbero essere acquisto di tablet 1.500 euro nella colonna 2024 perché ho intenzione di farlo subito questa cosa e un'altra voce di spesa promozione del nuovo servizio Euro 500 sempre sull'anno 2024 quindi poi avrete un totale dei costi per ogni obiettivo per ogni annualità e qui alla fine avrete il totale dei costi del programma ricordiamo appunto i minimi annui quindi che sono 25.000 euro per la linea intervento 1 e 3.500 per la linea di intervento 2 e poi l'indicazione del contributo richiesto dalla regione che deve stare nel massimo dell'80% con questi tetti che abbiamo indicato prima 70.000 all'anno per la linea 1 e 20.500 per la linea 2 vi chiediamo anche di indicare le spese di personale anche per facilitare il nostro calcolo la nostra verifica quindi indicare alla fine anche per ogni annualità il totale dei costi del personale dedicato diciamo quello sui servizi bibliotecari archivistici che intendete inserire come spesa e anche le spese il 10% delle spese generali ovviamente questo è un totale estrapolato dalle spese che sono comunque state già dettagliate nelle righe precedenti per ogni obiettivo quindi vi chiediamo di tirare fuori e metterle qui per una verifica diciamo del rispetto della percentuale del 20 o del 10% ok io avrei finito bene mi sembra sia stata chiara vedo nella chat anche domande su questa ma vedremo dopo e comunque risponderemo io l'ho fatto a qualcuna frattanto mentre parlavi affrontiamo adesso un aspetto anche questo cruciale questo non riguarda tanto la fase vostra di riflessione sulla partecipazione al bando quindi magari come scegliere le due linee di intervento e se avete diciamo le caratteristiche adatte o se il bando è coerente con le vostre aspettative questo riguarderà la fase finale ma tradizionalmente come ho detto è oggetto di tante discussioni e allora in questo caso anche per evitare perché ne abbiate tutti e anche noi contezza di quali sono i nostri limiti noi cerchiamo di andare incontro a tutti in nome appunto come dicevo di quella attenzione per i nostri utenti per voi stessi che fate parte dell'ecosistema culturale perché crediamo nelle qualità dei servizi della nostra organizzazione bibliotecaria perché vogliamo incrementarli abbiamo però dei limiti posti dalle norme perché stiamo naturalmente maneggiando denaro pubblico e su questo io lascio la parola alla collega Chiara Casari con cui che qualcuni di voi forse già hanno conosciuto sì buongiorno a tutte a tutti mi sentite sì sì ok sì allora rinnovo il buongiorno ringrazio le colleghe che i colleghi che mi hanno preceduto voglio anche presentare il collega Marco Muzzioli che probabilmente vedete collegato avete visto collegato che è un collega dell'ufficio che si occuperà sia occupato della parte della redazione del bando e anche si occuperà delle successive fasi compresa la rendicontazione delle spese che è appunto la fase che vado ad illustrarvi siamo nell'ambito dell'articolo 11 dell'avviso faccio una premessa l'avviso va letto in maniera attenta puntuale può essere in alcuni punti magari più difficile seguire il ragionamento che sta alla base se avete dei dubbi ovviamente fate delle domande anche via mail ma mi raccomando l'avviso va conosciuto proprio perché come si è detto più volte già nel corso di questo incontro anche per chi è stato abituato in passato ha già partecipato ad avvisi per le convenzioni triennali ci sono tante novità e quindi va come dire anche digerito per essere poi in grado di presentare un programma triennale che sia capace di rispondere effettivamente a quelle che sono le sfide presentate all'interno dell'avviso stesso e questo lo dico perché io sto per rappresentarvi una parte più amministrativa però c'è un c'è appunto un però il però è questo cioè i profili culturali i profili di merito che dovranno essere appunto la parte centrale e più importante dei programmi che voi presentate devono però sempre intersecare e poter essere riconosciuti in un qualche modo anche dai profili contabili ed amministrativi non esiste il merito non esiste il progetto il programma culturale ahimè senza che questo sia accompagnato da una solida struttura contabile e amministrativa perché noi siamo un ente pubblico e dobbiamo rispettare questi tipi di profili quindi non solo nella domanda di contributo in tutti i suoi allegati ma anche e soprattutto nella rendicontazione delle spese quando andate a raccontare cosa è stato fatto annualmente cosa si è realizzato è necessario che ci sia sempre coerenza tra quello che viene raccontato nella relazione descritto nella relazione tecnico-scientifica quindi tutte le attività che si sono svolte il raggiungimento degli obiettivi eccetera eccetera che trovi riscontro dal punto di vista contabile quindi della rendicontazione economico-finanziaria del programma nell'annualità che andate a presentare e ovviamente anche amministrativo cioè la compilazione dei documenti deve essere corretta completa può essere in alcuni casi capisco in alcuni momenti ci possono essere delle richieste anche più complicate di altre però è necessario anche per quanto si diceva prima insomma alzare l'asticella anche da questo punto di vista e sforzarsi di compilare la documentazione e la modulistica nel modo corretto bene cominciamo con la rendicontazione delle spese il punto 11 punto 1 dell'avviso modalità e termini i termini rimangono invariati per ogni annualità di contributo dovrete rendicontare entro il 31 gennaio dell'anno successivo le spese e le attività ovviamente che sono state realizzate nell'anno precedente quindi la deadline sarà sempre il 31 gennaio dell'anno successivo e dovrete presentare una richiesta di erogazione che verrà redatta sulla base di un modello di un modulo che verrà messo a disposizione qualche settimana prima dalla regione Emilia Romagna di solito viene messo a disposizione sia sul nostro sito che inoltrato trasmesso via mail con un remind e una serie di indicazioni a tutti i soggetti che poi saranno effettivamente convenzionati quindi ci sarà sempre questo doppio canale e ovviamente come dicevo prima deve essere compilata correttamente sottoscritta correttamente e corredata di tutti gli allegati necessari che sono quelli che verranno in parte messi a disposizione contestualmente e in parte sono già descritti comunque all'interno dell'avviso voglio fare una piccola parentesi sulla questione della sottoscrizione dei documenti allora come spiegava correttamente prima il dottor Leombroni proprio per venire incontro alle esigenze di tutti i soggetti che sono presenti sul territorio in questo bando è stato previsto oltre alla possibilità ovviamente di firmare digitalmente i documenti anche quella di firmare in maniera autografa analogicamente i documenti però c'è un però e il però è questo mi raccomando la firma analogica significa che il documento deve essere firmato proprio a mano a penna sul stampato firmato a penna e scansionato questa è la firma analogica valida digitalizzata tutte le altre tipologie di firma non sono valide non sono corrette ai fini giuridici sono firme che non hanno nessun tipo di valore quindi se io faccio una firma la scansiono e la metto nel programma che può essere un adobe o un altro programma che utilizzo per creare un pdf o per apporre delle firme digitali attenzione quelle firme fatte scansionate poi incollate sui documenti come diciamo foto non hanno nessun tipo di valore legale quindi i documenti così sottoscritti ai fini sia della presentazione della modulistica per la domanda di contributo che per la presentazione della modulistica per la rendicontazione non sono valide e quei documenti saranno rifiutati dalla regione per cui state molto attenti nel momento in cui apponete una firma autografa che questa sia scansionata come dire una sola volta sul documento altra cosa nel caso in cui la domanda di contributo o gli altri documenti siano sottoscritti da un delegato del legale rappresentante occorre allegare sia se la firma ovviamente è autografa occorre allegare sia la carta di identità del legale rappresentante che delega che la carta di identità o altro documento di identità ovviamente del soggetto delegato questo sempre altra raccomandazione perché è successo di trovare dei documenti di identità non più in corso di validità ovviamente la firma autografa deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità al momento della presentazione della domanda cioè non può essere una carta di identità o un passaporto quello che volete scaduti c'è sempre nell'articolo 11 punto 11 punto 1 dell'avviso un altro obbligo che è un obbligo annuale che i cui termini verranno indicati ogni anno dal settore patrimonio culturale che è quello proprio di andare a aggiornare le schede di censimento di cui si parlava prima la CBIB e il questionario di aggiornamento per gli archivi grande novità di questo avviso che riguarda però solo la linea di intervento numero 2 è quella che ogni anno i soggetti appunto che si convenzioneranno con la regione su questa linea di intervento potranno presentare la richiesta di erogazione di un sal intermedio questo sal intermedio queste richieste sono ovviamente facoltativi questo significa che è possibile presentarli oppure no ci sono però delle clausole la clausola temporale entro il 30 settembre dell'annualità in corso quindi 30 settembre 24 per il 24 30 settembre 25 per il 25 eccetera e deve essere questo sale intermedio deve riguardare almeno il 40 per cento delle spese cioè la soglia minima di spese raggiunte sull'annualità deve essere pari almeno al 40 per cento ovviamente le modalità sono le medesime del contributo annuale quindi occorrerà comunque caricare con questa richiesta di sal tutta la documentazione che è prevista in generale per le richieste di erogazione e di cui adesso andiamo a parlare di cosa si compone la richiesta di rendicontazione di una relazione tecnico-scientifica qui ho segnato alcune caratteristiche deve descrivere in modo puntuale puntuale le attività realizzate nell'anno di riferimento le attività che vengono descritte nella rendicontazione devono essere coerenti con il programma presentato attenzione non ci possono essere stravolgimenti o variazioni del programma presentato e se ci dovesse sorgere nel corso del triennio la necessità di fare delle modifiche sostanziali al programma deve essere comunicato obbligatoriamente alla regione è uno degli obblighi dei soggetti che si convenzionano con noi quindi ci aspettiamo che la relazione tecnico-scientifica riporti e scriva delle attività che sono comunque già presenti nel programma presentato con la domanda di contributo inoltre come dicevo prima deve essere chiaramente evidente la relazione fra le attività e i costi per i quali si richiede il rimborso questo significa cosa? che noi ci aspettiamo innanzitutto di vedere delle relazioni tecnico-scientifiche complete cioè ve lo dico in maniera molto diretta abbiamo ricevuto nel passato relazioni tecnico-scientifiche veramente scarne mezza pagina una pagina può una pagina rappresentare un programma di attività di un anno di un ente che ambisce a diventare parte del sistema bibliotecario-archivistico regionale è un po' poco dovete lo sforzo che chiediamo a chi si convenzionerà è quello di presentare delle relazioni che siano complete che rappresentino in maniera il più possibile dettagliata ovviamente nei limiti di quello che è una rendicontazione però che rappresentino bene quello che è stato fatto nel corso dell'anno ma soprattutto ci deve essere una coerenza fra la parte culturale e la parte contabile se presentate una spesa per esempio faccio un esempio molto banale un periodo di attività in cui è stata fatta una qualche tipologia di attività e mi ritrovo le spese che fanno riferimento a quell'attività fatte in un altro periodo dell'anno completamente diverso c'è qualcosa che non va le date che delle fatture dei giustificativi di spesa devono essere coerenti con i periodi nei quali vengono svolte le attività di riferimento e io devo sempre chiaramente poter trovare un riferimento fra l'attività rendi contata e la spesa presentata per quell'attività per quanto riguarda i documenti di spesa ovviamente vi viene chiesto di presentare l'elenco dei documenti di spesa che devono essere fiscalmente valide ovviamente devono avere il numero la data la descrizione la ragione sociale sia del destinatario che del destinatario e l'importo ovviamente della spesa anche qui ci deve essere ovviamente mi raccomando da quest'anno ci sarà la possibilità anzi l'obbligo di caricare questi dati in un file excel attenzione agli errori anche proprio materiali cioè ci deve essere coerenza matematica diciamo così fra la somma di tutte le righe che imputate al progetto diciamo alla realizzazione annuale del programma e la somma generale dei costi annuali che avete appunto caricato sul programma abbiamo trovato tante volte anche degli errori di calcolo il richiedere vedremo il caricamento su excel è anche un venire incontro alla speranza diciamo che questi errori non ci siano più e poi ci deve essere ovviamente l'elenco delle quetanze dei pagamenti altri documenti che vengono richiesti perché sono documenti che sono necessari alla regione per procedere poi proprio dal punto di vista pratico al pagamento sono la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta da conto del 4% IRPEF IRES famoso modello IRES che tutti gli anni viene richiesto e che tutti gli anni alcuni soggetti convenzionati devono rifare 2, 3, 4 volte perché perché il modello è annuale quindi va utilizzato il modello che viene messo a disposizione annualmente dalla RER e il modello deve riportare obbligatoriamente il numero e la data del provvedimento di concessione cioè dell'atto di impegno che noi vi comunicheremo col quale la regione assume l'impegno di spesa questo è una diciamo aspetto più burocratico però è obbligatorio quindi su questa cosa qua bisogna migliorare molto perché abbiamo in alcuni casi dovuto veramente fare numerosissime integrazioni ed è una condizione che ferma la liquidazione senza questo documento che deve essere corretto e deve essere caricato proprio sul nostro applicativo di contabilità regionale non si procede alla liquidazione del contributo quindi è interesse di tutti che questo modulo sia compilato correttamente anche qui la questione della firma che spesso viene apposta in maniera autografa ma con queste immagini applicate da un programma tipo quello di Adobe non va bene la firma se autografa deve essere apposta sul documento stampato e poi scansionata è solo per la linea di intervento numero uno quindi la prima linea di intervento dal 2000 ovviamente scusate che c'è un refuso dal 2025 quindi questo significa che dall'annualità dalla rendicontazione che riguarderà l'annualità 2025 e poi vi chiediamo anche il bilancio preventivo dell'anno in caso questo bilancio non sia disponibile sappiamo che certe volte non è compatibile la redazione del bilancio con la data del 31 gennaio diamo la possibilità di trasmettere questo documento anche entro il 30 giugno ovviamente se non è disponibile caricherete scriverete da qualche parte che non lo avete disponibile che lo trasmetterete entro la data prevista dall'avviso faccio una nota forse avevo visto una domanda prima scorrere fra i quesiti tutte queste documentazioni sono delle disan praticamente quindi sono delle dichiarazioni che devono essere sottoscritte appunto o dal legale rappresentante o dal suo delegato ecco andiamo qui all'altra novità come vi mostrava prima la collega Daniela quest'anno avete trovato questo documento che è il piano dei costi anche in Excel vi chiederemo anche a rendicontazione di andare a compilare diciamo quello che è il rendiconto progettuale annuale su Excel vedevamo bene prima nella slide che ci mostrava Daniela che queste due tipologie di spesa per le quali è previsto un tetto massimo che sono le spese di personale dedicato ai servizi bibliotecari archivistici nella misura massima del 20% e le spese generali nella misura massima del 10% hanno nel file Excel due righe dedicate cioè dovete riportare queste spese sia all'interno della griglia dove dalla quale si evince diciamo la relazione fra obiettivi azioni e costi e quindi avrete un totale generale di quanto speso nell'anno ma a parte in fondo alla tabella le riporterete anche come 20% per le spese di personale e 10% per le spese generali questo per dare la possibilità sia a voi che a noi di verificare in maniera più veloce il rispetto di queste soglie apro una parentesi su queste due tipologie di spesa queste due tipologie di spesa sono l'avere previsto delle percentuali è come dire quello che permette di andare a rendicontare dei costi che altrimenti sarebbero stati difficilmente rendicontabili su queste tipologie diciamo di programmi quindi quando si parla di spese di personale stiamo parlando del personale che è dedicato ai servizi bibliotecari archivistici non stiamo parlando del personale che in generale lavora in maniera continuativa per il vostro ente la stessa cosa le spese generali sono le spese generali che diciamo che riguardano il programma quindi come era ben rappresentato anche prima possono essere nelle spese generali previsto anche le spese per la consulenza o la collaborazione che riguarda diciamo proprio la gestione del programma per quanto riguarda la linea A cioè quella delle spese di personale dovrete chi appunto si convenzionerà dovrà poi presentare una dichiarazione che permetta di capire qual è la relazione il calcolo che viene fatto in termini di attività e tempo utilizzato dei dipendenti o dei collaboratori diciamo continuativi dedicati ai servizi bibliotecari archivistici e assegnati a questa specifica alle specifiche attività della convenzione scusate eccoci allora per quanto riguarda l'elenco di giustificativi di spesa che voi dovrete caricare nella rendicontazione saranno ammessi i giustificativi di spesa relativi all'annualità di riferimento questo significa annualità 2024 devono essere attività spese buste paga quello che volete che fanno riferimento ai mesi da gennaio a dicembre 2024 ovviamente siccome sappiamo che in alcuni casi soprattutto per quanto riguarda le attività che si fanno a fine anno il nostro fornitore per esempio potrebbe emettere la fattura qualche giorno dopo la validità la data che c'è sui giustificativi di spesa può essere compresa fra il primo gennaio dell'anno di riferimento e il 31 gennaio dell'anno successivo quindi le attività devono essere realizzate nell'anno solare ma la emissione del periodo del giustificativo di spesa può arrivare fino al 31 gennaio dell'anno successivo tutti i giustificativi di spesa tutti i giustificativi di spesa dovranno contenere l'indicazione del CUP cioè il codice unico di progetto che saprete sicuramente cos'è perché ormai è da diversi anni che la pubblica amministrazione lo richiede noi prenderemo al momento dell'impegno di spesa un CUP ve lo comunicheremo sarà scritto anche nel testo della convenzione che andremo a sottoscrivere e quindi quel codice alfanumerico dovrà essere riportato in maniera obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa al punto invece 11.3 dell'avviso viene rappresentata quella che è la l'iter diciamo che poi viene applicato percorso per andare a arrivare diciamo alla liquidazione quindi la regione una volta ricevute le vostre PEC contenenti tutta la documentazione della rendicontazione le apre le esamina valuta se è necessario chiedere eventuali integrazioni controlla le spese ammissibili e non ammissibili ed eventualmente ridetermina il contributo con le modalità che poi spiegherò dopo nel caso in cui entro il 31 scusate nel caso in cui sia necessario chiedere delle integrazioni i tempi per la integrazione saranno sempre 10 giorni ovviamente tramite PEC l'altra novità è che da quest'anno si procederà ad effettuare anche i controlli sulla situazione di regolarità contributiva nei confronti di IMS e ENAIL come da normativa vigente bene arriviamo a parlare di quelle che sono le possibili diciamo i possibili casi che portano a una rideterminazione del contributo prima vi è stato spiegato quali sono le soglie massime le soglie minime le percentuali ciascun soggetto convenzionato avrà un contributo concesso che sarà suddiviso su tre annualità e dovrà rendicontare sulle tre annualità la spesa prevista nell'annualità ora se la spesa prevista nell'annualità viene rendicontata al 100% o oltre il 100% ovviamente il contributo è confermato al 100% ma anche se c'è una rendicontazione che è entro il 20% della spesa quindi la spesa ammissibile mettiamo a 100 rendicontate 80 il contributo viene confermato comunque ed erogato al 100% nel caso in cui invece la riduzione della spesa presentata effettuata in quell'anno o della spesa ritenuta ammissibile sia fra il 20 e il 40% si procederà ad una riduzione del contributo che sarà pari alla differenza fra il 20% e la percentuale in meno rendicontata quindi mettiamo esempio se la spesa ammissibile era 100 e io rendiconto 70 noi andremo a diminuire il contributo del 10 perché è la differenza fra il 20 e la spesa effettivamente rendicontata oltre il 40% cioè se io vado a rendicontare meno del 40% della spesa ammissibile c'è la revoca del contributo anche questo mi pare sia una novità di questo avviso e quindi è importante quando si presenta il progetto triennale il programma triennale costruire un programma che è nelle nostre capacità di spesa ovviamente quindi non costruire un programma che è oltre le nostre capacità di spesa perché questo ovviamente può comportare poi in rendicontazione la revoca del contributo ci sono altri casi di revoca del contributo ai quali bisogna ovviamente fare attenzione cioè le soglie minime di spesa che sono quelle del punto 5 punto 2 dell'avviso ossia i 25.000 euro della linea di intervento 1 e i 3.500 euro della linea di intervento 2 sotto una rendicontazione sotto queste soglie comporta altrettanto la revoca del contributo stiamo sempre parlando sull'annualità cioè ogni annualità in questo caso è indipendente dalle altre infine parliamo di controlli come avrete visto abbiamo parlato di tipo cosa deve contenere il giustificativo di spesa che caratteristiche deve avere che date deve avere noi non vi chiediamo di presentare il giustificativo di spesa però i giustificativi di spesa devono essere presenti e devono essere conservati nei vostri uffici per almeno 5 anni perché la regione Emilia Romagna può procedere a delle verifiche successive che vengono effettuate a campione e che con ogni probabilità verranno effettuate negli anni successivi quindi ciascun soggetto beneficiario convenzionato con la regione su questa linea di intervento sarà tenuto alla conservazione di tutta la documentazione progettuale compresa la documentazione di rendicontazione che potrà essere soggetta a controllo e dovrà ovviamente avere le caratteristiche che sono state spiegate diciamo nelle slide precedenti ecco io avrei terminato non so se vi ho steso credo anche i colleghi non so se ci sono delle domande c'è c'era una domanda sul cup non so se avevi già risposto per le spese che sono state già fatte precedentemente nel 2024 le spese fatte precedentemente all'assunzione del cup ovviamente non devono essere cupate ma dovrete dichiarare nella relazione che presenterete che quelle spese sono inerenti al progetto ovviamente e a quel cup che vi abbiamo che vi avremo insomma che avremo fornito e quindi verranno ricondotte con la dichiarazione al cup ovviamente non possono essere cupate perché quella del cup naturalmente è un addempimento nuovo ma anche qui è una norma uscita l'anno scorso che ha costretto ad esempio a noi anche a modificare dei bandi tipo il bando citato della digitalizzazione e ha una logica di tracciamento ora chi lavora nel pubblico è abituato al cup chi lavora nel privato forse è la prima volta che lo sente la logica del cup è quella di tracciare gli investimenti pubblici e l'investimento pubblico in questo caso inteso come in questo ambito ha un'accezione più larga dell'usuale dove noi pensiamo investimenti non so mutui investimenti in beni durevoli eccetera o in lavori così qui ha la logica dell'investimento della ricaduta del nostro del nostro investimento una ricaduta sociale abbastanza significativa e durevole ed è proprio la logica della 18 noi stiamo investendo su una organizzazione bibliotecaria fatta anche di soggetti privati che concorrono proprio a impatti positivi sulla comunità io ho usato spesso comunità regionale vuol dire sulla società e quindi la norma impone in questo caso il CUP che serve ovviamente a tracciare la cosa per voi è più onerosa non è tanto chiedere il CUP che provvederemo noi ovviamente è quello di fare in modo che i vostri fornitori indichino nei documenti fiscali questa parolina con il numero il numero del CUP che vi daremo però la razio è questa ed è una razio credo condivisibile ho visto molte domande su le cose quindi vogliamo e già abbiamo già abbiamo superato l'una ma magari cinque minuti rispondere agli altri come vi ho detto risponderemo comunque perché e poi le domande diciamo ricorrenti vedremo di tradurle in FAC in modo che sia chiaro allora aggiungo o ribadisco perché vedo molte domande su spese puntuali questo è ammissibile quello è quello ammissibile allora le spese non ammissibili sono chiaramente indicate nell'avviso le spese ammissibili sono ammissibili in quanto coerenti con il programma di attività che presentate cioè una spesa per un rimborso chilometrico lo so guardo anche Daniela potrebbe essere anche ma deve essere coerente col programma di attività e soprattutto deve essere coerente con la relazione che presentate se il rimborso chilometrico è fatto ottobre e l'attività è fatta ad aprile cioè è chiaro che non può essere ammissibile se invece nell'ambito di un'azione progettuale specifica ben rappresentata sia in domanda che poi in rendicontazione e che è coerente perfetta con il programma di attività allora io penso possa per esempio un rimborso chilometrico essere ammissibile così come altre tipologie di spesa quindi l'importante al di là di quelle che sono chiaramente spese non ammissibili è che ci sia sempre mantenuta la coerenza col programma di attività e che venga rappresentata in maniera corretta chiara nella rendicontazione altrimenti noi abbiamo avuto diversi casi in cui non era possibile capire in nessun modo la relazione fra il giustificativo di spesa e quello che era descritto nella relazione se posso faccio solo alcuni esempi di servizi archivistici e bibliotecari che possono essere compresi nelle spese di personale in quella percentuale del 20% il dottor Leombroni faceva il caso della catalogazione altri esempi possono essere il supporto dato agli utenti per la consultazione del patrimonio le attività di didattica di didattica fatte sul patrimonio stesso l'inventariazione archivistica tutti i lavori tutte le attività che devono però essere comprese nel programma triennale e finalizzate funzionali a quel programma triennale spero con questi esempi di aver circoscritto un po' meglio quella specifica ci sono domande Daniela in cui vogliamo leggere rispondere magari perché sono si riguardo l'introduzione della quietanza noi quest'anno abbiamo introdotto la quietanza quindi si vuol dire che dovete avere prima pagato le spese quindi noi agiamo a rimborso quindi è necessario anche indicare la quietanza di pagamento ecco naturalmente anche qui la razio la razio vi è stata più volte esposta sono indubbiamente attività onerose della rendicontazione ma vi assicuro che anche noi noi uffici regionali dobbiamo seguire delle procedure come dire rigorose di documentazione della spesa perché noi abbiamo una regioneria io dico spesso scherzando virtuosa ma in realtà questo è anche un aspetto positivo perché la regione Emilia-Romagna ha una struttura di bilancio solida negli anni che ha consentito anche di far fronte agli eventi che abbiamo registrato in questi ultimi anni quindi con esborsi di spesa e questa solidità di bilancio è dovuta anche al rigore di controllo della spesa noi cerchiamo ovviamente di rendervi cercheremo di rendervi la più facile però i principi essendo condivisibili di cui dovremmo anche essere orgogliosi perché abbiamo un ente che non ha mai avuto problemi da questo punto di vista quindi dobbiamo essere orgogliosi ecco questi principi vanno condivisi da entrambi quindi noi stessi perché poi noi stessi dobbiamo quando Chiara fa le liquidazioni non ha più voi come interlocutore ma ha la ragioneria che è un giudice molto molto severo e quindi dobbiamo naturalmente tutti insieme fare uno sforzo noi cercheremo con massimo supporto di aiutarvi ma tutto uno sforzo per centrare questo obiettivo che è per noi anche di grande orgoglio cioè ottenere incrementare i servizi dell'organizzazione bibliotecaria in un quadro amministrativo anche corretto e di efficienza di efficienza centrare le due cose caratterizza le politiche della regione Emilia-Romagna indipendentemente adesso proprio la struttura amministrativa della regione Emilia-Romagna e questo credo sia un valore anche da affermare anche in questi bandi ecco penso che abbiamo risposto più o meno la maggior parte delle domande quindi in ogni caso noi siamo qui potete anche naturalmente usare la mail quella collettiva che vi ho fatto vedere anche i biblioarchivi chiocciola regione punto Emilia trattino Romagna perché poi è presidiata e che viene poi anche vuol dire chi è interessato alla risposta viene naturalmente sollecitato a rispondere al quesito ne approfitto per dire che poi appunto troverete sul sito anche la registrazione del webinar e le slide io devo correggere una slide perché ah è questa cosa ecco perché da bando la data sarebbe di conclusione delle domande il 14 luglio però in realtà essendo il 14 luglio domenica la conclusione si sposta automaticamente al 15 luglio quindi a mezzanotte del 15 luglio come come le tasse avete visto come l'IRPEF non c'è bisogno nemmeno quello lo scriveremo perché sa va a sandir diciamo d'altra parte oggi si può anche spedire il 14 di domenica perché gli strumenti della PEC è neutra che uno spedisce tranquillamente ma normativamente dobbiamo andare avete questa al giorno dopo sì esatto bene c'è qualche altra vedo dei ringraziamenti noi ringraziamo voi naturalmente questo deve essere un obiettivo comune perché noi abbiamo bisogno di dimostrare che l'incremento di risorse a voi destinato ma non solo anche a altri settori della cultura è un investimento è un settore che è cresciuto anche managerialmente perché qui attenzione dovete affrontare le cose anche da questo punto di vista ed è un settore quindi maturo per fare e la maturità si vede anche in questo perché le richieste di contributi anche se fatte se le fatte a una fondazione bancaria ad esempio richiedono esattamente mutati smutandi se anche la rendicontazione e il rispetto di alcune regole e questo è uno sforzo che dobbiamo fare insieme bene se non ci sono perché l'ora è davvero di pranzo io ringrazio tutti ringrazio Daniela ringrazio Chiara ringrazio Marco Muzzoli che avete visto e che sarà dietro le quinte coinvolto e anche fuori dalle quinte fra un po' ringrazio Francesca Ricci ringrazio anche le mie colleghe Cristina Cristina Ambrosini che ha aperto Manuela Cristoni e ringrazio tutte e tutti voi per e speriamo insomma di 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 vederci di di poter interloquire e di realizzare un delle operazioni di qualità con la precedente convenzione abbiamo anche cercato di far passare un principio cioè che ad esempio alcune strutture di questa organizzazione possono fornire anche servizi ad altre strutture dell'organizzazione bibliotecaria questo deve essere intensificato noi abbiamo questo almeno dico quello che è successo negli ultimi tre anni abbiamo strutture convenzionate dedicate ad esempio a particolari settori della disabilità o non abilità o come vogliamo chiamarla che hanno prodotto progetti molto carini molto belli e anche corsi sull'accessibilità eccetera per altri per altre strutture dell'organizzazione bibliotecaria deve esserci questo tipo di questo tipo di di scambio quindi verso il cittadino ma anche verso di noi per poi fornire servizi al cittadino detto questo sperando naturalmente che vi aver detto cose condivisibili auguro a tutti una buona giornata e a presto arrivederci arrivederci vedete che le vedete tutte sorridenti quindi non abbiate paura ma della rendicontazione ma rispetto del tau attenzione a ciò che vi è stato detto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti